Quasi tutto pronto per la festa di San Martino, una delle tradizioni potremmo dire della cultura cubina, del folklore cubino. È una tradizione storica perché ininterrottamente si svolge ogni 11 di novembre ed è una festa per tutto Cubio, non solo per il quartiere di San Martino. Ovviamente il momento clou è l'albero della cuccagna che è qui alle mie spalle e che praticamente coinvolge un po' l'intera città ed anche le frazioni, partecipano Villa Magna, San Martino in Colle, le frazioni del quartiere, dei vari quartieri, tutta la città di Cubio è coinvolta. È una festa per tutto Cubio, non soltanto per il quartiere, è una festa sicuramente vissuta da anni e da tutti quanti. Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie per la visione 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 Grazie per la visione